Si è concluso pochi giorni fa, con l'approvazione all'unanimità in Consiglio di Comunità di Valle, l'iter di approvazione del nuovo statuto appunto della Comunità di Valle Altogarda e Ledro. Come richiesto dalla provincia autonoma di Trento, lo statuto della comunità doveva essere adeguato attraverso il lavoro della Commissione Consuntiva Statuto e Regolamenti, iniziato nel gennaio 2016. Un iter piuttosto lungo, sottoscritto da tutti i gruppi e approvato venerdì scorso. Si tratta di uno statuto ancora più chiaro di quanto richiesto dalla provincia, con più partecipazione, che nasce da un lavoro condiviso. Un documento che favorisce l'efficienza e la trasparenza della Comunità di Valle Altogarda e Ledro, attento nei confronti delle donne, che riguarda anche le nuove generazioni. Il documento approvato all'unanimità dal Consiglio prevede inoltre le sottoscrizioni per indire un referendum più basso di tutto il Trentino, con il 4,5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali ed il quorum referendario più basso della provincia con il 20%. Grazie. Grazie.